E basta un sì? Perchè? Per portare a compimento una riforma che da tanti decenni il nostro paese sta aspettando. Una riforma che può migliorare la Costituzione, tenendo in equilibrio quelli che sono i poteri tra il governo, il Parlamento e la democrazia, che da molto tempo stiamo cercando di mettere a posto.